Ciao ragazzi, altro borgo, altra festa. Siamo a Carimate e siamo in un paese sempre in provincia di Como, dove da padrone c'è il castello di Carimate, una struttura attiva con albergo e ristorante. Ma noi ci preoccupiamo del mercatino, che tutti gli anni fanno dall'8 al 10 dicembre, e che è accompagnato anche dallo street food. Andiamo a vedere! Grazie a tutti! 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 Ciao! Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!